68 milioni di chilometri equivalgono a 48 mila viaggi in auto tra Milano e Palermo o 10.500 voli tra Milano e New York. Qui però non stiamo parlando del nostro prossimo viaggio, ma del percorso che annualmente in Italia la spazzatura compie per essere riciclata in maniera corretta. Mark Vittor Hansen, un attore americano, diceva che la spazzatura è una grande risorsa nel posto sbagliato, a cui manca l'immaginazione di qualcuno per essere riciclata in maniera utile per tutti. Ciò che per noi non è più utile o non più necessario può essere riutilizzato da qualcun altro, dandogli nuova vita. Spazzatura oggi è un termine che ci spinge a pensare in maniera negativa a un elemento che invece può e deve essere considerato una risorsa per tutti. Questa è la filosofia alla base dell'economia circolare ed è proprio da questa riflessione che partiamo con la seconda puntata di Eco più Eco, l'industria del futuro tra transizione ecologica ed economia circolare. Un progetto dell'Università degli Studi di Urbino, in collaborazione con Confindustria a Pesaro Urbino, l'Università Politecnica delle Marche e Legambiente. In ogni puntata parleremo del futuro del nostro pianeta e proveremo a capire cosa possono fare le aziende e i cittadini in maniera attiva e positiva. Scopriremo aziende del territorio, vedremo le buone pratiche da mettere in atto e proveremo ad analizzarle dal punto di vista tecnico con le università e ambientale insieme a Legambiente. In questa seconda puntata parliamo proprio di economia circolare e delle risorse del nostro pianeta Terra e lo facciamo insieme ai nostri ospiti a cui do il benvenuto. Avvocato Rosalia Cipolletta, presidente di Legambiente Pesaro, benvenuta. Grazie. Marco Savelli, responsabile finanziario di Megabox, un'azienda pesarese che si occupa di imballaggio in cartoni ondulati, benvenuto. Benvenuti a voi, grazie. E il professor Paolo Polidori, professore associato di Scienza delle Finanze del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Urbino, benvenuto. Grazie. Professore, partiamo proprio da lei. L'economia circolare è un processo sicuramente virtuoso, ma altrettanto sicuramente non banale. Ci racconta bene che cos'è e quali sono gli attori coinvolti in questo processo? Sì, allora noi dobbiamo pensare che siamo cresciuti in un mondo dove i processi produttivi sono principalmente lineari, cioè materie prime ed energia vengono utilizzati per generare prodotti. Prodotti finali per i consumatori oppure semilavorati che vengono impiegati da altre aziende. In questo processo si generano rifiuti. Si generano rifiuti sia nella parte produttiva, ma anche l'energia stessa utilizzata è un rifiuto perché genera CO2. Questi rifiuti prodotti sono un problema per l'ambiente e la quantità dei rifiuti prodotti è tanto maggiore quanto più veloce è il ciclo consumistico che la nostra società ha. Quindi più consumiamo, più generiamo rifiuti. Il processo lineare necessita di essere interrotto se vogliamo fare qualcosa per l'ambiente. Come farlo? L'idea è quella di un processo circolare, un processo circolare nel quale il rifiuto torna ad essere una risorsa. sono importanti alcuni passaggi, non bisogna tenere in mente alcune parole chiave. La prima è per ridurre i rifiuti bisogna essere più bravi nel consumo, quindi sprecare meno, essere più efficienti nella produzione e sapere utilizzare meglio i prodotti che abbiamo. Il secondo passaggio è riusare i prodotti, sia da un punto di vista industriale, il prodotto che torna all'interno di un altro processo industriale, ma anche come cittadini, sapendo dare una vita più lunga ai prodotti che abbiamo. L'altro elemento importante è il riciclaggio, cioè il prodotto che non finisce in discarica ma torna ad essere un prodotto attraverso il riciclaggio. Allora, un passaggio importante di questo percorso è una grande novità, perché così a leggerlo così sembra facile, banale, è che più i prodotti sono pensati, prodotti progettati per essere inseriti in un percorso circolare, più è facile far ritornare il rifiuto a nuova vita. E questo è un processo, diciamo, sofisticato, interessante e che coinvolge cittadini, imprese e istituzioni. Quindi sicuramente un doppio impegno, come diceva appunto lei, da parte dei cittadini nello sfruttare al meglio i prodotti, ma da parte anche di chi progetta il prodotto a far sì che possa essere riutilizzato varie volte. Certo, è un impegno congiunto, cioè non lo possiamo pensare come un processo a carico di un solo soggetto. Certo. Questo è un processo a carico dei cittadini, delle imprese che hanno un ruolo importantissimo, ma anche delle istituzioni che devono agevolare la transizione verso un'economia circolare. Quindi è un percorso che non può essere delegato ad un solo soggetto. Tutti noi ne siamo parte. Bisogna lavorare insieme. Sicuramente parlando di aziende, mi rivolgo al dottor Savelli. Megabox lavora molto riutilizzando la carta, uno dei materiali più riciclati in Italia. Proviamo insieme a capire come avviene la circolarità della carta. Quindi nel pratico cosa avviene una volta che raccogliamo la carta nel famoso bidoncino rosso o del colore indicato dall'azienda di riferimento? Il settore della carta è uno degli ambienti con il più alto livello di circolarità per quanto riguarda il riciclo dei rifiuti. Questo con un grandissimo valore per l'aspetto ambientale. I dati, su un quesia, sono interessanti. Partiamo dal primo aspetto, appunto, come avviene questa circolarità. Il primo è grazie ai virtuosismi dei cittadini che mettono la carta all'interno dei nostri bidoni. Il secondo passaggio viene fatto dalle municipalizzate che, appunto, raccolgono la carta e la spediscono all'interno alle cartiere. E il terzo, quindi, è la stessa lavorazione. Il primo è già un fatto emblematico. In Italia è curioso. Noi siamo abituati, i cittadini lo sanno, che nella nostra provincia il bidone della carta, del cartone, è rosso. Ma basta spostarsi di poco, andare fuori provincia, e in Romagna è azzurro, mentre in altre province della regione Marche è bianco. Quindi potrebbe anche creare difficoltà per i turisti o per noi che andiamo in giro. Detto questo, comunque sia, i virtuosismi sono talmente importanti che riusciamo noi cittadini a raccogliere in Italia una quantità di carta superiore a quella media europea, ovvero il procapite di 61 chili per abitanti e siamo superiori totalmente a quelle che sono le stime dettate dall'Europa per i progetti e l'obiettivo 2025. Quindi gli cittadini italiani sono bravissimi e sono virtuosi. Come avviene quindi poi il processo? Secondo un accordo tra il consorzio della carta e del cartone, che è Comieco, le municipalizzate prendono la carta e la spediscono, quindi la stoccano e la spediscono poi con un stoccaggio fuori, all'interno delle cartiere. Le cartiere utilizzano quindi questo processo di triturazione e grazie anche all'acqua creano nuova vita. E da qui appunto la circolarità. Danno nuova vita alla carta e secondo i dati, sempre il consorzio Comieto, si arrivano fino a sette volte il ciclo produttivo. Quindi siamo molto bravi a riciclare carta e diamo nuova vita a questo, a questo chiamiamolo rifiuto, che in realtà deriva pur sempre dal legno. I processi quindi vanno fuori regione e una delle nostre aziende compra la carta nella provincia di Rovigo. Quindi pensate a quanti chilometri deve fare la carta per prendere anche nuova vita. Da qui viene lavorata all'interno delle nostre due aziende e sui 40 milioni di chili che vengono lavorati all'interno della nostra provincia, 32 rientrano tramite le nostre due aziende, quindi hanno nuova vita. Quindi questa circolarità è ben espressa dalla capacità dei cittadini di essere virtuosi. Quindi appunto come dicevamo c'è un grande impegno da parte dei cittadini, ma per fortuna anche un grande impegno da parte delle aziende. Questo non toglie che il problema dei trasporti rimane sicuramente un problema da non sottovalutare. E di questo vorrei parlarne con l'Avvocato Rosalia Cipolletta, la Presidente di Lega Ambiente Pesaro. Appunto parlando del trasporto dei rifiuti, di questo problema del trasporto, come potremmo ridurre questi spostamenti e quindi lo spreco di risorse e tutto ciò che poi ne consegue? Noi diciamo che per ridurre appunto l'inquinamento che poi produce il trasporto dei rifiuti dobbiamo costruire degli impianti in loco, cioè laddove c'è il rifiuto costruire l'impianto, perché questo è l'unico modo che noi abbiamo per ridurre il passeggio, come noi siamo soliti dire, dei rifiuti per tutta Italia e qualche volta anche oltre la frontiera. E questo è indispensabile se vogliamo ridurre l'inquinamento ambientale, che è una delle questioni principali da affrontare e che appunto dobbiamo affrontare, come prima diceva il professore, attraverso l'affermazione di un modello diverso di produrre e di consumare andando verso l'economia circolare. Non c'è altra alternativa. Tra l'altro siamo molto bravi, come adesso diceva il dottor Savelli, a differenziare, perché nella nostra provincia differenziamo il 73,4% dei rifiuti, quindi è una percentuale molto alta, così anche nelle marche, ma anche a livello nazionale, perché alle volte può sembrare strano, ma l'Italia a livello europeo è la maggiore differenziatrice dei rifiuti, quindi siamo veramente bravi, abbiamo imparato, poi però cadiamo nell'ultimo tratto dell'economia circolare che è costituito appunto dalla lavorazione di questi rifiuti per farli ridiventare materia utilizzabile nel circuito produttivo. E qui è il punto dolente, perché pensiamo solo, posso fare un esempio concreto, già che siamo a Pesaro, noi pensiamo solo a quello che avrebbe significato per la nostra provincia la costruzione del biodigestore a Vallefoglia. E noi consumiamo, cioè produciamo ogni anno 70.000 tonnellate di rifiuti organici, comprensivi anche di quelli delle potature. Che cosa avremmo potuto fare con il biodigestore? Intanto avremmo evitato di mandarli fuori questi rifiuti risparmiando quindi nella CO2 che il trasporto appunto produce, ma poi avremmo potuto ottenere la materia prima e seconda molto importante, costituita dal compost, che è un concime naturale molto efficace per la nostra agricoltura e avremmo potuto ottenere anche il biometano, che è un carburante, come noi sappiamo, non inquinante, in quantità molto elevate, perché avendo 70.000 tonnellate di rifiuti avremmo potuto ottenere 22.000 tonnellate di compost e 8 milioni di metri cubi di biometano. Voi pensate al risparmio che avremmo ottenuto perché avremmo fatto a meno di ricorrere alla nuova materia prima, vergine, oltre al risparmio costituito dal trasporto. E questa della materia prima, vergine, è una cosa fondamentale perché noi sappiamo che oggi con il sistema economico lineare, come prima diceva il professore, noi consumiamo troppe risorse, risorse che non abbiamo. Si stima che nel 2050, se continuiamo così, abbiamo bisogno di risorse come di tre pianeti praticamente, come non ne potremmo avere comunque. Quindi l'economia circolare non è più una scelta, ma diventa un'esigenza a cui non possiamo assolutamente rinunciare. Ovviamente si possono costruire gli impianti non solo per i rifiuti organici. Adesso per esempio il dottor Savelli ci faceva questo esempio della carta del cartone. noi avremmo la potenzialità nella nostra provincia di costruire anche qui un impianto per lavorare questa carta raccolta perché siamo a 40.000 tonnellate e poi abbiamo aziende nella nostra zona che rilavorano, per cui avremo un doppio beneficio perché qui raccogliamo, qui ricicliamo, qui rilavoriamo. E' questo a cui dobbiamo tendere con l'economia circolare, qui ci vuole l'impegno di tutti. Certo, in questo modo manterremo le risorse perché poi quelle che a volte vengono chiamate come dicevamo spazzature o rifiuti in realtà sono delle risorse e le potremo mantenere all'interno del nostro territorio. Se riciclate, certamente sì. Una cosa importantissima è che siamo riusciti a radicare nei nostri cittadini, nei cittadini italiani, appunto l'abitudine alla differenziata. Pensiamo che fino a qualche anno fa, senza andare troppo lontano nel tempo, si buttava tutto nello stesso bidone. Invece adesso, come ci dicevate, appunto siamo tra le nazioni più virtuose nella differenziazione. Quindi siamo riusciti a radicare questa buona pratica. Ma appunto non è solo sul cittadino che bisogna puntare, ma anche sulle aziende. Allora torno a chiedere a dottor Savelli quali sono le buone pratiche che Megabox mette in atto. Quali sono anche le difficoltà a cui si va incontro, perché inevitabilmente ci saranno delle difficoltà nel tentativo di essere virtuosi, ma anche quali vantaggi si possono ottenere? Negli ultimi anni la famiglia Angeli, che è proprietaria appunto delle aziende che lavorano la carta e il cartone, ha voluto lasciare un'impronta positiva sul territorio, partendo soprattutto dall'ambiente in cui si lavora, quindi coniugando imprenditorialità e visione anche ambientale, dando quindi un valore alle persone che lavorano costruendo un nuovo ufficio in Passive House. Ed è giusto anche parlare di questo termine che è più i conosciuti, ma qualcuno potrebbe anche sfuggire il significato, ovvero sono queste case passive che quindi non hanno un consumo energetico e tramite appunto dispositivi passivi il fabbisogno energetico dell'ambiente, sia il riscaldamento che il raffrescamento, viene totalmente soddisfatto e l'aria totalmente microfiltrata e pulita, quindi si ha un piacere totalmente di vivere e chi è stato da noi in azienda ne ha sicuramente apprezzato i benefici. Inoltre sappiamo benissimo che lavoriamo un cartone che è certificato, questa certificazione FSC che dà un valore quindi a riutilizzo della carta e del cartone. Tutto questo deriva anche dai grandissimi investimenti che l'azienda ha fatto, dalla mission aziendale che voglio coniugare sicuramente imprenditorialità e visione per i prossimi anni. Anche qui negli ultimi anni l'impresa ha totalmente rinnovato il pacco dei beni strumentali utilizzando la tecnologia della 4.0, che è chiamata la quarta rivoluzione industriale, dove tutti i dati sono in rete, non soltanto tra noi e i fornitori, ma soprattutto con chi poi demanda il prodotto ad essere finito, con una grandissima attenzione al mondo del riciclo. Quindi questo ci ha portato a grandissimi investimenti creando beni sempre ai propri emianti, grazie alla circolarità che abbiamo prima evidenziato della carta e dando anche un valore aggiunto alle nuove assunzioni. Quindi l'azienda sicuramente è molto attenta anche non soltanto al benessere ambientale, ma anche al benessere delle persone. Questa circolarità ci ha consentito anche di dare nuova linfa vitale a quelle che sono le nuove sfide. Le sfide noi le stiamo raccogliendo quindi non soltanto sotto l'aspetto anche imprenditoriale e ambientale, ma anche sotto l'aspetto, possiamo dirlo anche, della socialità. Perché Megavolley sta investendo, appunto Megabox, scusate, tramite Megavolley, sta investendo anche nel valore sociale che lo sport ha come missione all'interno della società. Bene, sicuramente è un'azienda virtuosa, un esempio che può essere utile anche per magari ispirare altre aziende nel territorio e ascoltare un po' i vostri suggerimenti. Sì, proprio in questo vorrei, e grazie alla domanda, vorrei aggiungere un aspetto che ormai sempre più i prodotti, noi li vediamo all'interno, a un punto che ci arrivano anche a casa, tramite la nuova industria delle commerce e anche l'industria alimentare, sempre più prodotti alimentari, soprattutto quelli dell'ortofrutta, sono avvolti dalla carta. Quindi la plastica è sempre più sostituita dalla carta, sempre più prodotti ci arrivano a casa avvolti tramite la scatola, il packaging del cartone e grazie ai virtuosismi delle persone che poi portano la frutta a casa, avvolta nella carta, non la buttano nel cestino, arriva il cartone del bene consegnato a casa e ugualmente la rimettono sempre nel nostro bidone, in questo caso rosso. Quindi grazie ai virtuosismi dei cittadini si può dare sempre nuova positività, circolarità e benessere all'ambiente. Ecco, Presidente, abbiamo visto cosa possono fare le aziende per i cittadini e come ci stava accennando il Dottor Sovelli, c'è anche qualcosa che i cittadini possono fare per l'azienda, ovviamente. Ci vuole raccontare qualcosa? Certamente, i cittadini possono fare molto per l'ambiente e per le aziende, perché possono intanto nella quotidianità assumere degli atteggiamenti importanti, per esempio sprecando di meno, per esempio riducendo, come prima dicevamo, i rifiuti, perché anche questa è una cosa importantissima, oggi i rifiuti sono troppi, in Italia abbiamo 29 milioni di rifiuti l'anno, quindi sono veramente una cosa esagerata, difficile poi da gestire. Quindi i cittadini quotidianamente nelle loro azioni possono fare la loro parte, per esempio possono dotare le loro case di pannelli fotovoltaici, per usare appunto una energia pulita, è una cosa fondamentale. Possono scegliere dei prodotti che siano ecosostenibili, che quindi le aziende, con lo sforzo di cui parlava adesso il Dottor Sovelli, cercano di mettere sul mercato, devono informarsi soprattutto anche sul nuovo processo dell'economia circolare. L'informazione secondo noi è importantissima, per esempio sugli impianti di cui abbiamo parlato prima, se ci fosse stata un'informazione corretta, il biodigestore di Vallefoglia si sarebbe fatto. Siccome invece c'è stata un'informazione scorretta, diciamo poco incisiva, e qualche centinaio di cittadini hanno avuto la meglio, ovviamente non si occupavano tanto del biodigestore quanto forse di altre questioni, però hanno prodotto un danno enorme per la nostra provincia, perché intanto il biodigestore non si è fatto, quindi i rifiuti continuano ad andare avanti e indietro. Allora, il cittadino deve informarsi, certo non deve prendere a scatola chiusa quello che viene proposto, assolutamente, noi siamo contrari a questo, siamo perché il cittadino partecipi alle scelte, però ecco, deve partecipare senza avere delle preclusioni già prima di iniziare ad informarsi, perché con un'informazione corretta noi siamo convinti che molte delle difficoltà che oggi incontriamo si supererebbero. Quindi questa è una virtù enorme e io penso che con questo progetto Eco più Eco noi diamo un contributo in questa direzione. Noi come Legambiente autonomamente facciamo delle iniziative soprattutto nelle scuole, perché i giovani devono anche loro essere informati, perché adottino appunto queste buone pratiche fin da ragazzi, perché questo è fondamentale. Poi naturalmente, come diceva anche il dottor Savelli, ci sono gli enti locali che devono fare la loro parte, con i finanziamenti, sburocratizzando anche le autorizzazioni che sono sempre troppo lunghe, la comunità europea e il governo devono finanziare questi progetti, perché per le industrie indubbiamente si profila una difficoltà, perché la ricerca, lo studio di nuovi prodotti, di nuove metodologie hanno dei costi. Quindi la transizione ecologica non è che costa nulla, però la transizione ecologica, se si investe, poi ci ridà molto, soprattutto dal punto di vista ambientale, che è l'emergenza del momento. Sicuramente sono più i vantaggi dei costi o degli svantaggi. Uno dei grossi problemi del nostro tempo è appunto, come diceva lei, l'informazione, ma non tanto il contenuto dell'informazione, quanto il modo con cui viene comunicato quel contenuto. A volte basta comunicarlo nella maniera non adeguata per non riuscire a passare al meglio il messaggio. A volte le persone non conoscono bene gli aspetti tecnici, ovviamente perché non è magari di loro competenza, giustamente, e uno degli scopi di questo progetto è proprio quello di trasmettere alle persone queste conoscenze. E appunto su questa riflessione andiamo verso la conclusione con l'ultima domanda a lei, professore. Le vorrei chiedere, a livello scientifico, proviamo a spiegare appunto ai nostri ascoltatori perché è così importante l'economia circolare. Allora, la transizione ecologica, quindi il passaggio dall'economia lineare, come abbiamo definito l'economia circolare, rappresenta una rivoluzione e come tutte le rivoluzioni porta rischi ma anche grandi opportunità. Se noi saremo capaci di cogliere questa opportunità, riusciremo a creare valore, cioè usare questa necessità, questo bisogno che abbiamo come una leva per un nuovo percorso. Io sto a Urbino, patria del rinascimento, mi piacerebbe pensare a un rinascimento economico basato, incentrato sull'economia circolare. Perché dico creare benessere? Perché in realtà si tratta di ripensare il modo con cui consumiamo, con il quale consumiamo i prodotti, come li creiamo e quindi riprogettare i nostri sistemi industriali. Questo vuol dire creare benessere. Ci sono alcuni, secondo me, però passaggi importanti che vanno colti. Il primo è il benessere, noi pensiamo al nostro, noi dobbiamo pensare che ci sono intere aree del pianeta che vogliono consumare, vogliono consumare di più di quanto hanno consumato fino adesso. Quindi la capacità di creare processi produttivi innovativi e di condividere questa tecnologia, un elemento cruciale della transizione ecologica, la tecnologia, l'innovazione tecnologica, può permetterci di vivere come abbiamo vissuto nel passato, ma di consentire anche agli altri di vivere meglio. Questo è un elemento fondamentale. L'altro, secondo me, passaggio importante che ho accennato prima è che deve essere condiviso il percorso fra istituzioni, cittadini e imprese. Innanzitutto vanno premiati i cittadini bravi, come le imprese brave. Uno sconto in bolletta può essere fondamentale per chi fa bene. Un'impresa che lavora bene deve avere un incentivo, lo merita perché lavora bene. E lentamente il processo porterà a far salire i virtuosi e a far scendere i meno virtuosi. La velocità dipende da quanto saremo capaci di gestire tutti i costi che questo processo ha. Quindi l'opportunità va colta se ci lavoriamo, non se aspettiamo che qualcuno ci dia una ricetta. Cioè tutti devono fare la loro parte. Ho citato le istituzioni perché sono importanti. Prima si è fatto riferimento agli impianti, ai permessi. E lì è chiaro che la transizione non c'è se non c'è anche un progetto politico. Un progetto politico che vede, mette al centro l'ambiente e mette al centro tutti i passaggi necessari affinché i bravi cittadini, le brave imprese, le brave associazioni, o meglio le associazioni che credono nella transizione ecologica, abbiano la possibilità di lavorare, lavorare bene e diffondere un messaggio che è una necessità, non è uno sfizio. Cioè è una cosa che noi temo purtroppo dobbiamo fare e prima lo facciamo meglio è. Certo, un percorso sicuramente complesso ma necessario. È un grande messaggio di speranza, anche di fiducia, questo che abbiamo appena detto. Un messaggio di speranza verso tutti i cittadini e gli abitanti di questo pianeta. Questo progetto nasce per trasmettere fiducia, speranza e la consapevolezza che un futuro migliore per il nostro pianeta si può raggiungere non è più solo un'utopia. E le vostre parole ce l'hanno dimostrato. Quindi io vi ringrazio per il vostro impegno, vi ringrazio anche per il vostro tempo, quindi grazie professore di essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie a Marco Savelli di Megabox. Grazie a voi. E grazie anche all'avvocato Rosalia Cipolletta, presidente di Lega Ambiente Pesaro. Grazie a voi. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito. Ci vediamo alla prossima puntata di Eco più Eco. Buona serata. Grazie a tutti.